Dopo la messa in onda dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, l'ex calciatore Sossio Aruta è un fiume in piena Sui social ha risposto a tono a tutti quelli che non credono nella genuinità e autenticità della storia d'amore con la sua fidanzata, e promessa sposa, Ursula Benardo I due sono stati i protagonisti della scelta del programma condotto da Maria De Filippi con una scenografica proposta di matrimonio L'ex partecipante del trono aversi è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa attaccando, su più fronti, i propri dettratori Tra le vittime, c'è anche Valeria Marini che, nel corso del programma Temptation Island, e nelle puntate seguenti di Uomini e Donne non aveva avuto buone parole per il calciatore Tarantino Proprio in una delle puntate speciali del reality delle tentazioni, la show Giri Stellare aveva etichettato Sossio Aruta come sonzio e mal considerato per il suo comportamento, e dentro e fuori al villaggio nei confronti della Benardo . Ecco le parole, non proprio da gentiluomo, del giocatore rivolte alla show Giri Stellare. Dedicato a te sfigata. Ha scritto Sossio Aruta sul suo account Instagram, simbolo del dito medio, Ndb, noi ci amiamo, e ci divertiamo alla faccia tua, tu prova a farti una vita che non ti vuole nessuno, nuovamente simbolo del dito medio, Baci Stellari Nessun nome ma concludendo con il saluto Baci Stellari, gli utenti hanno capito che l'ex calciatore si riferiva proprio a Valeria Marini Punto di fronte ad una serie infinita di critiche da parte del popolo del web, è intervenuta anche Ursula Bennardo, che ha difeso il proprio uomo dalle considerazioni di quella che ormai sembra essere solo un'ex amica Tu sei qui a scrivermi poveraccia, riferendosi ad un utente, Ndb, non conoscendomi e giudichi me, o Sossio se parliamo su chi conosciamo. Valeria Marini, Ndb Che mondo assurdo ahimè. Esclamativo, apostrofo, apostrofo, punto è la proposta in studio. Nella puntata andata in onda martedì Sossio Aruta ha fatto una dichiarazione d'amore alla sua amata, che ha commosso il pubblico di uomini e donne Voglio dirti che ti amo follemente, e che voglio condividere il resto della mia vita con te, ha detto Sossio Dopo la sentita dichiarazione d'amore, le ha donato un anello, in segno dell'impegno, che vuole prendere con la Bennardo per il resto della sua vita, non nascondendo la voglia di costituire con lei una famiglia Grazie